ciao ragazzi io sono ricuto per me in questo nuovo video oggi siamo un video un po particolare di come si vuol dire di ringraziamenti perché in pratica ho deciso di ringraziare alcune persone in particolare una che mandiamo a vedere insieme quindi senza altri indugi partiamo ok questi qua sono iscritto ricambi certamente notifiche ah sì io un po ah sì sono tre principi non prende male come solitaria robo della 3rk vabbè non fa niente non stare il primo è tech gaming in world che ringrazio per il music che mi lascia e che segue il mio canale poi ringrazio a erdona altrettanto a eccolo qua in particolare questo qua grazie avrei avrei fatto un blog di ringraziamento soltanto per lui però onestamente io lo faccio perché in pratica mi ha sponsorizzato in questa live che mo se la trovo la vediamo insieme si deve stare aspettano ai video piaciuti il mio canale gli 8 iscritti ringrazio chi si è iscritto al mio canale 16 sono gli altri due cazzeggio time spetti streaming che sponsorizzano ecco qua questo qua questo io qua ai te gusta la pazza tanti questo video qua che in pratica questo di responsabilizzato io lo ringrazio che lui ha detto che aveva il tumore aveva il tumore che era lui non mi ricordo si aspettate no vediamo un attimo le vie o vecchi perché non mi sbaglio mi ha detto così cosa di questo sto male addio youtube sono entrambi ladi cazzeggio ok vediamo questo qua adesso oggi ragazzi siamo su minecraft nelle sky os e nel 7 di a pixel allora ragazzi oggi come avete visto dal titolo vi volevo parlare di una cosa molto seria che mi sta succedendo cioè a questo video vi dico subito già che durerà poco sui due minuti quattro minuti ragazzi vorrei parlare di una cosa che ho scoperto di avere un tumore c'è sono dato tipo dovuto andare all'ospedale mi hanno dato lui è lui che ha il tumore non mi sono sbagliato ha detto che in matica si doveva operare il giorno dopo che ha fatto il video della streaming e ha sponsorizzato in pratica ha detto che giorno dopo si doveva operare quindi mi auguro che passi anche questa difficoltà io sto con lui massimo supporto ovviamente per chi mi segue massimo supporto a lui andare sul suo canale iscrivetevi che commentate qua sotto questo video con l'hashtag non mollare browser così da dimostrare il massimo supporto quindi ma non so come sta spero stia bene quindi mi raccomando commentate con l'hashtag grazie a non mollare sotto questo video e grazie mi raccomando non mollare continua così comunque ti ringrazio per il supporto che mi che mi stai dando e che mi ha sponsorizzato nella live e ricordo in marica già lo sponsorizzato a lui quindi mi mi congratulo con lui e mi congratulo anche con tech gaming and world poi a presto molto presto arriverà un video di yukyu ma non so quando ma arriverà ho portato la maratona di battlefield 1 fatto tre video questi tre mega appuntamento battlefield 1 che onestamente è andato bene dai ovviamente io mi stavo incazzando la cifra perché io odio quando in pratica ti vengono da dietro e ti sparano infatti alcuni loro li ho trovati che non ho mai fatto in vita mia per provare ma lo trovo giusto per poi nei casi avviscono altrettanto arrivare un video con il più presso per avere anche un altro video sponsorizzazione basta mi commentate con l'hashtag sponsorizzami sotto ogni video di sponsorizzazione che faccio per basta che me lo dite quindi un mega saluto a a tech gaming and world che vi invita a allora al suo canale che questo qua sono notifiche tech gaming and world un particolare saluto a lui e abbraccio mi raccomando commentate tutto questo video con l'hashtag brazzer non mollare che questo qua brazzer rischi andare a rischio al suo canale mi raccomando commentate con l'hashtag brazzer non mollare quindi passate in questi due canali tech gaming and world e abbraccio in particolare ringrazio brazzer per mi sponsorizzato che lo fa un video di sponsorizzazione solo per lui e di ringraziamento scusatemi poi passata anche nel canale a redna che mi ha lasciato un like al video poi tech gaming world particolarmente che mi lascia sotto ogni video un like e che mi commenta passate nel suo canale è quello di di amli come si chiama sono riuscita la stessa cosa ma se per qualcuno nel caso in cui solo dovesse dimenticare ripetiva io quanto dicevano i latini quindi quindi così ho dovuto dire per forza ripetiva juvento ovviamente quindi non è colpa mia quindi noi ci vediamo domani con un altro video mi raccomando l'hashtag brazzer non mollare commentate sotto questo video da ricordo è tutto noi c'erano male complesso pressione ciao ragazzi grazie grazie